Ciao a tutti amiche, colleghe e che mi seguono. In questo video vi farò vedere dei nuovi quaderni operativi che sono a disposizione sul web e possono essere scaricati in pdf. Vediamo di cosa si tratta. Ciao a tutti e ben ritrovati. Arricchiamo la nostra libreria con questi quaderni operativi per la scuola primaria messi a disposizione dalla casa editrice Cetem. Nella descrizione del video, che si apre cliccando sulla freccetta in basso a destra, troverete i link di riferimento. I quaderni operativi sono suddivisi per classi e per materia, cioè italiano, matematica, storia, geografia, scienze. Inoltre ci sono i quaderni per la didattica inclusiva, sia a livello base che a livello intermedio. Queste schede operative sono assolutamente un supporto alla nostra attività. Possono essere utilizzate come approfondimento, ma anche come attività di recupero. Potete scaricarli sul sito www.maestraeamica.com dove troverete tantissimi altri spunti didattici, altri materiali scaricabili, quaderni operativi e di altre case editrici che vengono messi a disposizione gratuitamente per noi. Mi raccomando, potete rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi contenuti se vi iscrivete al canale, perché se cliccate anche sulla campanella riceverete una notifica non appena saranno pubblicati nuovi contenuti. Ed ora vi ringrazio per l'attenzione, buon lavoro, vi saluto. Ciao, ciao!